Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marketing Design, oggi un altro video su design e comunicazione della serie Bombetta infatti andiamo a vedere come creare un about page che spacca, che porta i contatti, che porta i risultati questo video è un estratto del nuovo modulo del corso su web design, UX e comunicazione che esce venerdì, venerdì alle 14 faremo una live bomba dove vi faccio vedere tutto quello che dovete mettere all'interno del sito per fare in modo di ottenere risultati, quindi scriviti venerdì alle 14, c'è il link qui sotto in descrizione ora partiamo con la nostra pagina about per portare risultati non so se lo sai ma l'about page è una delle pagine più viste di tutti i siti web, soprattutto dei siti di professionisti che vendono servizi quindi mi raccomando devi fare molta attenzione quando la vai a creare perché dopo la home è una delle pagine più viste del sito innanzitutto cosa dobbiamo mettere all'interno della nostra pagina about? la nostra storia fin da quando eravamo bambini, eravamo appassionati di questo, di quello, di quell'altro e poi tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare dove noi siamo, assolutamente no il focus ragazzi non è su noi ma è anche se la pagina è su di noi dobbiamo cercare di parlare al possibile cliente andandogli a stimolare i benefici, i risultati che potrà avere se ci sceglie quindi utilizzeremo la nostra storia per portare il nostro possibile cliente a contattarci come facciamo a fare questo? partiamo con una headline dove inseriamo il perché di quello che facciamo cioè noi facciamo il nostro lavoro perché? perché ci piace portare risultati ai nostri clienti in un determinata maniera perché così il cliente potrà crescere cose di questo tipo, vi faccio vedere io come l'ho fatto questa qua è la mia pagina chi sono il perché, il mio perché è qua esattamente quindi vedere aziende che crescono grazie al web design figo, d'impatto e a una comunicazione efficace è il mio obiettivo ed è quello che mi rende felice, che mi fa stare bene, che mi gasa del mio lavoro e questo è realmente così ragazzi, cioè quando io vado a creare un design che funziona, una comunicazione che spacca e il mio cliente ha più visite perché è più visibile lato SEO, ha più contatti perché il testo è travolgente va a ingaggiare l'utente, lo porta a contattare il cliente e poi alla fine, morale della favola il cliente aumenta il suo fatturato, aumenta la sua crescita grazie al web quello è il mio obiettivo, è quello che mi gasa quando vedo le statistiche, le dashboard che vanno su dei miei clienti perché loro sono felici e mi dicono ok, facciamo altre pagine, facciamo il blog, facciamo altre landing e quindi anche per noi designer questa cosa è una cosa che ci porta a guadagnare sostanzialmente di più quindi andiamo a mettere il perché di quello che facciamo, sotto andiamo a spiegare quello che facciamo con focus sui benefici che possiamo portare al cliente e se possibile inseriamo degli elementi di riprova sociale cioè degli elementi che vanno a confermare quello che stiamo dicendo quindi se parliamo di portare risultati dobbiamo poi far vedere alcuni risultati se parliamo di fare siti veloci garantiamo una certa velocità ok poi qui andiamo a mettere un'immagine del team di noi e sostanzialmente sotto poi andiamo a spiegare perché sceglierci cioè perché io, perché devi scegliere me qui raccontiamo la nostra storia e andiamo a intramezzare la nostra storia con blocchi dove andiamo a parlare dei benefici quindi cerchiamo di legare la nostra storia personale spiegando come siamo diventati esperti come siamo cresciuti e quindi parlando anche di noi ma cercando di avere un focus sui risultati che grazie all'esperienza possiamo portare al nostro cliente quindi l'obiettivo qui è creare autorevolezza senza essere super mega autoreferenziali inserendo anche qui elementi di riprova sociale che diciamo avvalorano, rendono più credibile quello che diciamo io qui l'ho fatto in questa sezione dove racconto di che cosa mi occupo parlo del blog e poi del canale youtube dove ora ho quasi 40.000 iscritti, 3 milioni di visualizzazione e poi vedete che dopo che ho parlato un po' di me, dando comunque un'autorevolezza a quello che faccio perché ho un certo tipo di seguito, perché ho fatto 200 progetti di successo con WordPress eccetera vado a parlare di come aiuto i miei clienti vedete che quindi qui vado a spiegare proprio come aiuto i miei clienti con la mia esperienza che grazie a questi anni di studio con WordPress a tutta l'attività che ho fatto eccetera, i progetti che ho realizzato posso andare a darti tot risultati quindi credibilità, comunicazione che porta utenti a sceglierti e questa è la mia specializzazione, contattami vedete che quindi qui andiamo a legare questo con quello che possiamo portare al cliente in termini di risultati poi qui sotto andiamo sempre a dare io vedete qui diciamo vado avanti a raccontare la mia storia quindi qui vado a dare altre informazioni su attività che ho fatto che possono darmi credibilità ho parlato tante conferenze tra l'altro questa sezione è da aggiornare con l'ultimo WordCamp del 2023 ho fatto tanti progetti open source gratuiti per la community di sviluppo mondiale Fulby il mio tema ha fatto più di 100.000 download Next Awards il mio ultimo tema ha centinaia di installazioni attive quindi ti do ancora un po' di riprova sociale di dati che mi danno credibilità e poi ti do la mia promessa quindi in questa sezione qua ti vado a dire la mia promessa dove spiego i risultati che ti posso creare vedete c'è sempre questo botte risposta tra storia e risultati che si possono creare con il mio metodo posso andarti a dare visibilità contatti incrementare le vendite creerò per te una piattaforma eccetera eccetera vedete questo qua è il risultato che posso portarti poi abbiamo un blocco dove ti vado a raccontare questo nel mio sito non è che è proprio esattamente così però a livello di logica è così dove ti vado a dire tutto a livello di informazioni le conferenze dove si sono stato le certificazioni qua non le ho messe ma le certificazioni che ho immaginate un medico un professionista sanitario le certificazioni i corsi dove ha studiato la formazione che ha fatto i progetti anche qui dove ha collaborato vedete io qui ho messo i miei progetti open source la formazione che faccio ai miei studenti e le conferenze alle quali ho parlato andando a contestualizzare questo su magari un medico potrebbe essere le pubblicazioni che ha fatto a livello universitario a livello mondiale la formazione che fa altri medici che studiano da lui e le conferenze dove va a parlare sempre per andare a dare credibilità alla nostra comunicazione andiamo poi a inserire le testimonianze quindi vedete qua io parlo della formazione, esperienze, eccetera e qui poi ho le testimonianze le testimonianze possiamo metterle qui io adesso le ho messe un po' in alto possiamo metterle anche sotto ho invertito due blocchi diciamo che questi ragazzi sono un po' è una forma mentis poi potete invertire un paio di blocchi io per esempio le testimonianze le ho messe dopo le testimonianze vanno a valorare quello che abbiamo detto quindi parliamo di risultati qui Lorenzo che dice che sono stato in grado di comprendere le sue esigenze abbiamo avuto un lancio di grande successo dove abbiamo avuto più di 700 clienti in 72 ore di lancio qui Edoardo che dice che oltre al design l'ho seguito ma anche lato business gli ho dato importanti consigli quindi vedete queste sono testimonianze che avvalorano quello che abbiamo detto e cosa abbiamo qua dopo le testimonianze la parte dove parliamo e mostriamo che siamo una persona reale se voi ragazzi avete un chi sono dove non ci sono immagini non c'è niente non c'è un video che parla di voi io qui consiglio di mettervi un video che funziona molto bene vedete che io nella mia ne ho messi tanti di video ne ho messo uno, due, tre sono tutti video che mostrano la mia faccia che fanno vedere che sono una persona reale che sono una persona vera che non sono un fake quindi vedete che questa parte qua funziona molto bene se col video riuscite proprio a comunicare far vedere, dare fiducia e mostrare che siete delle persone reali fatto questo cosa abbiamo? abbiamo la call to action finale dove diamo un repilogo dei risultati che possiamo portare grazie al nostro lavoro se il cliente ci sceglie e poi abbiamo una call to action io nel mio sito l'ho fatta così contattami per trasformare il tuo business online qui faccio un repilogo un po' di quello che abbiamo detto prima poi c'è la call to action contattami ora ok? quindi vedete questo ragazzi è il template questo è il template della ON che abbiamo visto nei video precedenti vattela a vedere questo è il template dell'About questi ragazzi sono super risorse vi assicuro che se impostate una pagina così avrete un aumento delle conversioni notevole rispetto a siamo nati nel 1900x abbiamo fatto questo e questo altro quindi questi sono solo un assaggio ragazzi del nuovo modulo che esce venerdì usciranno altri video bomba quindi rimanete sintonizzati iscrivetevi alla live cioè qui sotto il link venerdì alle 14 ciao un saluto a presto